Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, video breve, coinciso, diretto, ma soprattutto io spero che in questo video voi potete apprezzare la mia più sincera onestà. Allora, vi mostro cosa contiene questa scatola, anche perché io ho già fatto degli artisti per quanto riguarda i capelli e qui là ve li mostro, non vedo l'ora di mostrarveli, anzi forse nel video seguente. Perché veramente mi ci sto trovando divinamente. Allora, questo appunto mi è stato inviato dalla ditta, quindi non sarà un video review, non sarà un messaggio promozionale. Ragazze, prendetelo un po' così, cioè io vi lascio il link nell'info box, fate quello che volete. Io vi sto mostrando soltanto il prodotto per evitare le spese di spinguzione all'estero. Allora, cosa contiene? Che poi non è la questione, veramente non ne faccio una questione di spese di spedizione, mi ero dato un tempo ristretto, cioè non mi dai nemmeno il tempo di provarlo. E il montaggio video, e il caricamento video, cioè oggi è 28, vabbè. Comunque, cosa contiene? Contiene il phon, oddio, contiene il phon e questi tre vecchi, che secondo me è l'unica cosa positiva. E' l'unica cosa positiva. Io non ho ancora trovato il phon perché, eccolo qua. Il phon è pesante, è davvero pesante. E' da 2200 watt. E' nulla, è carino, professionale, ma non posso dirvi altro, cioè non posso dirvi tantissimo. L'unica cosa che mi ha colpito veramente tanto, vabbè, vi faccio vedere, che dico sia, i vecchi. Vi faccio vedere, giusto perché mi sembra... Allora, questo è il vecco più piccolo. Poi c'è quello medio, appunto un filino più grande. E poi c'è quello grande. Sono tutti stretti, quindi questa è la cosa positiva, però appunto non l'ho provato il phon, quindi non posso dirvi niente. L'unica cosa che mi è piaciuta veramente tanto, è il catalogo. Il catalogo perché ho visto dei look fantastici, come questo qui. Come questo qui. Poi questo qui, molto semplice. Mi piaceva anche lo smalto della modella. E l'unica cosa che mi è piaciuta, vabbè, ci sono questi, i loro prodotti ovviamente sponsorizzati qui sul catalogo. L'unica cosa che mi è piaciuta veramente tanto, è che forse, forse, se sarebbero arrivate queste spazio, sarebbe stato meglio. Ora, non per spedicare il phon, però. Comunque sia, cioè, io l'apprezzo in questa maniera. Non mi potevate dare dei tempi così distretti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio il link giù nella info box, non so che altro dirvi. Vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ragazzi!